Io ho assistito al dibattito parlamentare, come immagino qualche milione di italiani, e ho visto che è intervenuto Conte. E perché è intervenuto Conte? Perché è stato chiamato in Parlamento a discolparsi del fatto di avere fatto tutto di nascosto. Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, date, dati, numeri, e ha dimostrato che per 26 volte Salvini e o la Lega sono stati informati, solo che o dormivano o giocavano col telefonino o guardavano i porno sugli iPad oppure non capivano quello che gli veniva detto mentre venivano informati. Allora, quando ha parlato Salvini, io mi aspettavo che Salvini estraesse l'asso dalla manica per entrare a tutti gli italiani nella sede più onorevole, il Parlamento, che Conte andava arrestato, come lui aveva chiesto, per alto tradimento, per averci venduti all'Europa. Non ha tirato fuori niente, è stato un comizietto da bar che faceva ridere i polli e dove non c'era nulla che smentisse una sola delle 26 smentite che aveva appena ricevuto da Conte. Questo è quello che io ho scritto e sono stupefatto che stamattina lo sputtanamento di Salvini non abbia avuto nessun rilievo sui giornali, ma siamo abituati. Non ti sareste aspettato che Di Maio difendesse il Presidente del Consiglio che i Cinque Stelle hanno espresso, cioè il Premier Conte? Ma sono intervenuti i suoi capigruppo in Parlamento che hanno apprezzato il discorso di Conte e gli hanno detto i punti nei quali non erano d'accordo. Ma ieri il tema non era sì o no al MES, il tema ieri era se Conte aveva gabbato il Parlamento firmando di nascosto di notte e vendendo l'Italia anche tedesche. Questo abbiamo sentito raccontare dal leader di partito più popolare nei sondaggi in questo momento. Sarà una notizia il fatto che erano un fracco di balle? Sì o no? Perché a furia di non parlarne è ovvio che poi Salvini va bene nei sondaggi. Bisognerebbe cominciare a dire che Salvini è un cazzaro perché non sa letteralmente di che cosa sta parlando e non da oggi.